Ciao a tutti ragazzi, in questa video-lezione vogliamo risolvere il seguente esercizio. E data la retta di equazione k-2 per x più y meno k più 4 uguale 0, determina k in modo che A sia parallela all'asse x, B sia parallela all'asse y, C passi per l'origine, D passi per il punto P di coordinate 2 e 3, E sia parallela alla bisettrice del secondo e quarto quadrante, F sia perpendicolare alla retta di equazione 2x più y uguale 0. Osserviamo adesso che la nostra retta è in realtà un fascio di rette che dipende dal parametro k. Determiniamo il coefficiente angolare di questo fascio e scriveremo m uguale, visto che l'equazione del fascio è in forma implicita, meno il coefficiente del termine x, quindi k meno 2, fratto il coefficiente del termine y, quindi 1, il coefficiente angolare è quindi, 2 meno k. Cominciamo a risolvere il primo punto, il punto A. Determina k in modo che la retta sia parallela all'asse x. Una retta parallela all'asse delle x ha un'equazione nella forma y uguale a. Per questa ragione nella sua equazione deve essere uguale a 0 il coefficiente del termine in x. Nel nostro caso quindi avremo k meno 2 uguale a 0. Quindi il valore di k cercato è k uguale 2. Passiamo al punto successivo. Determina k in modo che la nostra retta sia parallela all'asse y. Una retta parallela all'asse delle y ha un'equazione nella forma x uguale a b. Per questa ragione nella sua equazione deve essere uguale a 0 il coefficiente del termine in y. Nel nostro caso il termine in y ha un coefficiente che non dipende dal parametro, essendo sempre uguale ad 1. Per questa ragione non è possibile soddisfare la condizione richiesta. Non esiste quindi alcun k per cui la nostra retta sia parallela all'asse y. Passiamo adesso al punto successivo. Determina k in modo che la retta di equazione k meno 2 per x più y meno k più 4 uguale a 0 passi per l'origine. In questo caso deve essere uguale a 0 il termine noto. Quindi meno k più 4 va a posto uguale a 0. Da qui abbiamo k uguale a 4. Passiamo ancora al punto successivo. Determina k in modo che la nostra retta passi per il punto P di coordinate 2, 3. Si tratta semplicemente di sostituire al posto della x nella nostra equazione il valore 2 e al posto della y il valore 3 per determinare il conseguente valore di k. Scriveremo quindi k meno 2. Invece di scrivere per x scriveremo per 2. più y, ma al posto di scrivere y scriveremo 3, quindi più 3, meno k più 4 uguale a 0. Da qui si ha k per 2, 2k, meno 2 per 2, 4, più 3, meno k più 4 uguale a 0. Da qui ancora abbiamo 2k meno k ci dà k, meno 4 più 4 ci dà 0, più 3 uguale a 0. Quindi k in questo caso deve essere uguale a meno 3. Passiamo al punto E. Determinare k in modo che la retta sia parallela alla bisettrice del secondo e quarto quadrante. La bisettrice del secondo e quarto quadrante è un coefficiente angolare m' che è uguale a meno 1. L'equazione infatti è y uguale meno x. Per questa ragione, dovendo essere la nostra retta e la bisettrice del secondo e quarto quadrante parallele, i loro coefficienti angolari dovranno essere uguali. Quindi porremo 2 meno k uguale a meno 1, da qui si ha k uguale a 3. Passiamo adesso all'ultimo punto. Determinare k in modo che la nostra retta sia perpendicolare alla retta di equazione 2x più y uguale a 0. Il coefficiente angolare della retta 2x più y uguale a 0 è m' uguale meno il coefficiente del termine in x, quindi 2, fratto il coefficiente del termine in y, quindi 1, il coefficiente angolare, meno 2. Il coefficiente angolare del nostro fascio di retta è m uguale a 2 meno k. Dobbiamo determinare la retta del fascio perpendicolare a quella di equazione 2x più y uguale a 0. Dobbiamo quindi porre m uguale meno 1 fratto m' Quindi i coefficienti angolari devono essere l'uno l'antireciproco dell'altro, da qui si ha 2 meno k uguale a meno 1 fratto m' Quindi meno 1 fratto m' che è uguale a meno 2. Abbiamo ancora 2 meno k uguale 1 mezzo e moltiplicando per 2, primo e secondo membro di questa equazione, si ha 4 meno 2k uguale a 1 da cui abbiamo 2k uguale 3, da cui si ha infine k uguale 3 mezzi, che è proprio il valore cercato. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita. Grazie.